Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui per fare un video back to school, il mio primo video back to school di quest'anno, in cui vi farò vedere gli outfit che userò i primi giorni di scuola. Vi ricordo sempre che se volete essere salutati basta scrivermelo qua sotto nei commenti e saluterò tutti. Allora, incominciamo con il primo outfit che è questo qui, della Gas, questa marca qui, che ha questa maglia bianca con queste scritte azzurrine con i brillantini e i pantaloni sempre della Gas, con appunto di questo colore qua che sembra quasi jeans. Poi c'è quest'altro completo che è questa maglia qua di shoe, questa marca qui, che ho scritto have a nice day con la A tutta glitterata. e poi c'è sempre la felpa di shoe, di questo colore viola, con dietro la scritta sempre have a nice day. e poi questi pantaloni neri con le righe bianche e nere. Poi c'è quest'altro completo che è la maglia di happiness, questa qua, che è no shoes, no shirt, no problems. e niente, questa maglia qua, e poi, comunque bellissima pronuncia sì la mia, e niente, e poi questo, questi pantaloni qua di My Rock, con tutti i fiorellini. e poi un completo di happiness, con questa maglia qua, con l'unicorno, con un cuore con l'unicorno, e i pantaloni sempre di happiness, questi leggings qua, con la scritta happiness appunto qua. qua, e poi, e poi mancano pochi outfit, ci sono gli ultimi due, e c'è questo, questa maglia qua, di artigli, con tipo i finicotteri, e i pantaloni di fan and fan, così. Poi, poi c'è l'ultimo completo, che è sempre di happiness, che ha questa maglia, con scritto che top, e i pantaloni fucsia, con sempre la scritta, non so il contrario, happiness. e questo era l'ultimo outfit, e quindi questi appunto erano gli outfit che utilizzerò i primi giorni di scuola, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre informati sui miei nuovi video, e niente, un bacione a tutti, e al prossimo video.